Buongiorno e buongiovedì! Allora, come avete passato le feste? Spero bene, io bene, in casa, in famiglia, con le persone a me più care. E sono qua per lanciarvi le ultime promozioni di questo 2023, che comunque ci accompagneranno fino al 2 di gennaio, salvo esaurimento scorte. Ce ne sono tantissime nuove, ma ce ne sono tante che sono state lanciate già qualche settimana fa e scadono tutte il 2 di gennaio. Ma io ovviamente a fine video ve le riassumo tutte quante, così non rischiate di perdere nulla, perché sono veramente tantissime e tutte una più bella dell'altra. Allora, parto con la prima, che è un prodotto di cui vi ho parlato non tanto tempo fa, di una misura diversa, e sto parlando dei nostri Pinguino da 1,100 litro, i contenitori per il freezer. Perché vi parlo subito di questa? Perché ce l'avevo in freezer, quindi non devo far scongelare quello che c'è dentro, quindi ve ne parlo subito e poi lo metto via. I contenitori per la conservazione in freezer, per congelare i nostri alimenti, sono eccezionali, di uguali in giro non ne trovate. Sono ermetici, non ai liquidi ovviamente, sono impilabili, sono salvaspazio, sono fantastici per congelare qualsiasi cosa. Dal pesce alla carne, al pollo, a dei sughi pronti, alle erbe aromatiche, la cipolla tritata, il gelato, la frutta, tutto, tutto, niente escluso. Raccomandazione importante, quando mettete dentro ad esempio del ragù, dei sughi, che siano freddi, poi li potete mettere, altrimenti essendo il materiale poroso assorbe odore, colore e sapore, non che sia nocivo, però diventa anche antiestetico. Invece li fate raffreddare bene e poi li mettete qui dentro. Non riempiteli fino all'orlo, perché come dico sempre, quando un alimento si congela aumenta di volume, quindi deve esserci lo spazio sufficiente. Altrimenti cosa succede? Può saltare, aprirsi il coperchio e non va bene. La promozione ne comprende ben quattro pezzi, questi sono da un litro e cento, e io ve l'ho sempre detto, ve lo dirò sempre, ve li straconsiglio. Mi raccomando, non fatevi scappare. Lo rimetto in freezer e torno subito. Eccomi qua, allora, altra promozione, come sapete in questo periodo fino al 2 di gennaio c'è in promozione il panno pavimenti e adesso abbiamo aggiunto anche il nostro panno spolverino, lasciate perdere il colore, i miei sono un po' vecchi, ma sono fantastici. Sono elettrostatici, antiallergici e si usano ovviamente asciutti, senza nessun tipo di prodotto, hanno un effetto calamita, catturano polvere, peli di animali e quant'altro e non scappano più. E questo ve lo posso garantire perché io adesso ho due dati in casa e quindi ve lo posso assicurare. Sono fantastici per tutti i tipi di superfici e per la prima volta bisogna attivarli sempre con il solito discorso, o li fate bollire o li immergete in acqua molto calda finché questa si raffredda. Vanno utilizzati asciutti, si possono lavare in lavatrice fino a 60 gradi senza ammorbidente, no asciugatrice, no sul calorifero, all'aria e sono veramente fantastici. La promozione ovviamente comprende due panni, non vi dico i prezzi perché tanto poi a fine video vi condivido i volantini. Altro prodotto che già conoscete è la nostra fantastica penna Decorì, per decorare i dolci ma anche i salati perché volendo ci potreste mettere dentro il ketchup o la maionese o altre salse salate e andare a decorare i vostri preparati. Vi ricordo che è in silicone quindi non va in lavastoviglie. Per pulirla io consiglio la spazzolina per le eco cannucce perché è perfetta soprattutto per andare a pulire il forellino della punta, quello dove andiamo a scrivere e a disegnare. E' veramente comoda, è carina e divertente anche per i nostri bimbi ed è in promozione fino al 2 di gennaio. Altra promozione i nostri ovali da 1 litro e 100, giusto per farvi vedere il mio coperchio ha due colori, mi si era rossa questa parte ma per fortuna questi sono eterni, li abbiamo da una vita e ci sono i pezzi di ricambio per cui ho semplicemente sostituito il pezzo. Il contenitore è ermetico, ha solidi e vapore, protegge i nostri alimenti dall'aria e dal vapore che in cucina normale si formino per far sì che non si formino farfalline, che il sale o lo zucchero non assorba l'umidità, il caffè non perde l'aroma eccetera. Sono impilabili, sono salvaspazio, sono trasparenti così potete vedere quello che c'è all'interno. Il coperchio si apre da tutte e due le parti, questa ha un'apertura piccola ad esempio comoda per il riso, questa ha un'apertura più grande se magari mettete qualcosa di un po' più voluminoso per dargli spazio per uscire. E cosa ci possiamo mettere? Tutto quello che va in dispensa e che va appunto protetto dall'aria, quindi dalla pastina, lo zucchero, il caffè, questa capacità è perfetta per un chilo di sale e un chilo di zucchero, mezzo chilo di caffè, ci potete mettere il pangrattato, il bicarbonato, la farina, la farina della polenta, l'amido di mais, la fecola di patate, la pastina, il semolino, i legumi secchi, biscotti, cereali, caramelle, i cornflakes, tutto quello che va in dispensa, tutto. Sono fantastici, non bastano mai e adesso è in promozione ad un prezzo veramente piccolo piccolo, quindi da fare scorte e riempire tutta la dispensa. Altro prodotto in promozione, anche questo ve ne ho già parlato, è il nostro stampo snack, per preparare ad esempio barrette di cereali, col miele, col cioccolato, piuttosto che bastoncini di pesce o di verdure, io ve le avevo fatti vedere a fare i bounty, è comodo, per alcuni preparati consiglio di ungerlo con una goccia di olio di semi, così è in sapore ma il preparato non si attacca, ha il suo sigillo perché così se li dovete riporre in frigo non c'è problema, e potete anche metterli in freezer, però mi raccomando attenzione a non farlo cadere perché potrebbe rompersi. E in più è dotato della pressa, che serve appunto andare a pressare il nostro preparato, ma è anche graduata, io purtroppo con la luce non riesco a farvelo vedere, ma qui è graduata fino a 100 grammi, ed è comoda appunto per andare a pressare i nostri preparati. Altra promozione, non ho quella in promozione da farvi vedere, nel senso che in promozione c'è quella da 3 litri e mezzo, io non ho quella da 3 litri e mezzo, ho quella da 6, comunque parliamo di lei, la ciotola tavola con il sigillo azzurro, è da 3 litri e mezzo appunto. La ciotola linea tavola, come sapete, è un po' di carbonato, quindi ci si possono mettere sia cose fredde, ma anche cose abbastanza calde, molto calde. Il sigillo è ermetico, quindi va benissimo anche per il trasporto, potete lavarle lavastoviglie. È comodissima per pasta fredda, riso freddo, insalatone, macedonia, un bel minestrone, la carne della grigliata, potete veramente utilizzarla per tantissime cose. Ed è in promozione fino al 2 gennaio, quella da, vedete il tac per chiuderla bene, fino al 2 gennaio. E poi abbiamo la nostra caraffa filtrante, io ve l'ho fatta vedere a fare degli, io li chiamo infusi, ma in realtà sono estratti di erbe tipo il tela, camomilla, le tisane, gli infusi e quant'altro, sia con acqua fredda che con acqua calda. Basta mettere il nostro intruglio di erbette qua dentro, volendo potete anche prendere la bustina della camomilla, romperla, versarla qua dentro, perché è talmente fine che da qua non esce nulla. La mettete nella brocca, riempite di acqua e la lasciate in estrazione per una notte. Io solitamente metto la sera e utilizzo la mattina dopo. Dopodiché, quando è pronta, non dovete fare altro che togliere il filtro, metterlo sul tappino che è fatto posta per non gocciolare e avete il vostro preparato pronto, poi volendo lo potreste versare nella brocca, portarvelo nella fiaschetta termica e portarvelo al lavoro. Ma nessuno vi vieta di utilizzarlo così con dentro del vino, della sangria, della birra e quant'altro da portare in tavola. È in Tritan, quindi come ho detto ci stanno anche bevande calde e la nostra cara fa artica è in promozione anche lei fino al 2 di gennaio. Ma vi ricordo che di promozioni ce ne sono veramente tantissime. Adesso ve le condivido anche quelle, vi faccio tutto un riassunto di tutte le promozioni che scaldano il 2 di gennaio e io approfitto per farvi tanti 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 auguri per un fine 2003 fantastico e un inizio 2024 ancora più fantastico. Grazie che mi seguite, grazie per tutti i complimenti che mi fate, è la mia soddisfazione più grande. Continuate così, se volete darmi una mano condividete i miei canali con le persone che conoscete che magari anche a loro interessa qualche consiglio in più su questi fantastici prodotti. Io vi mando un bacione grande grande, grazie mille ancora e buon anno a tutti. Ciao! Grazie a tutti!